Incrociare domande e offerte di lavoro, dare supporto nella compilazione di un curriculum vite, offrire occasioni di formazione professionale e soprattutto creare rete. Ambizioni e molteplici gli obiettivi di Amico Lavoro e il nuovo progetto messo in campo dalla federazione FAI e FILCA della CISL che si occupano dei comparti dell'edilizia e dell'agroalimentare. Attraverso l'apertura di sportelli operativi territoriali, il progetto vuole infatti aiutare e supportare le sempre più persone che cercano una nuova occupazione. Questo sportello nasce con un'idea che noi in futuro dovremo sempre più accompagnare il lavoratore durante tutta la sua vita lavorativa perché il posto fisso ormai è diventato un'utopia. Il lavoratore nell'arco della vita lavorativa avrà più lavori e più posti di lavoro quindi noi avremo bisogno degli strumenti per poter accompagnare il lavoratore durante tutta la sua vita lavorativa nel momento in cui il lavoratore rimane disoccupato e nel momento in cui il lavoratore rimane solo in questo momento. Noi non vogliamo lasciare i lavoratori soli, pertanto ci siamo dotati di uno strumento, questo sportello che avrà il compito iniziale è quello di dare un aiuto al lavoratore che cerca una nuova occupazione. Però in prospettiva questo sportello può integrarsi con altri strumenti, quali le politiche attive del lavoro, cioè vedere tutti gli strumenti di formazione e informazione e riqualificazione professionale per fare in modo che il lavoratore nel momento in cui rimane disoccupato possa avere tutti gli strumenti per ricollocarsi nel più breve tempo possibile. In questa prima fase lo sportello darà maggiori risposte a lavoratori del settore edile e agroalimentare ma l'obiettivo è quello, entro la primavera 2014, di dare risposte e sostegno a tutti coloro che cercano lavoro. Amico Lavoro è un progetto nazionale nato a Roma che si è poi esteso a molte regioni italiane in modo particolare in Veneto, grazie anche alla collaborazione con Speranza Lavoro l'associazione fondata dai familiari delle vittime della crisi. Lo sportello Amico Lavoro è un'esperienza che ormai è nazionale, è in Veneto, diciamo che è la prima regione dove tutte le province hanno aderito e siamo pronti in tutto il Veneto, in tutte e sette le province a dare delle risposte per quanto riguarda il collocamento al lavoro. Il collocamento al lavoro è l'aiuto per quanto riguarda il curriculum e anche, magari perché no, anche la formazione di chi deve essere poi dopo orientato. Cercheremo un'alleanza con le imprese perché ovviamente bisognerà trovare delle condizioni per collocare i lavoratori nel miglior modo possibile e valorizzando il più possibile la loro esperienza e la loro formazione e quindi sono convinto che questa nostra esperienza avrà dei grandi risultati e sicuramente un buon successo. Grazie. 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 Grazie.